Buongiorno a tutti, sono Grazia e vi parlo dal centro estetico del Top Gym Fitness Club di Inzago. Hai la pelle stanca, ingrigita, con discromie e imperfezioni? È il momento di dare una sferzata di ossigenazione alla pelle del tuo viso. Oggi vi voglio parlare del Collaget Fit Lab, un percorso anti-age per la pelle del viso. Questo cofanetto racchiude tutti i prodotti per fare un trattamento di biostimolazione dinamica del collagene. Oggi, oramai, anche nelle creme e nei prodotti cosmetici si parla sempre di più di ingegnerizzazione del prodotto. Sono cosmetici che garantiscono un risultato di alto livello proprio per la loro costruzione ingegneristica a livello molecolare e creano dei risultati altamente performanti. Il kit contiene un peeling all'acido lattico e di MAE che stimola l'acute alla produzione di nuovo collagene ed elastina, generando un evidente effetto lifting. A seguire andremo a utilizzare il neutralizzante alcalino. Si tampona il viso e si utilizza Efted Fluid, che è questo, che è all'acido ialuronico a medio peso molecolare e fattori di crescita tessutale. Per finire si mette il Collagen Patch, che è una maschera fotoconduttiva biostimolante al collagene che stimola la matrice extracellulare del tessuto connettivo dermico e accelera la nuova produzione di collagene. La maschera Patch viene prima veicolata con l'elettroporatore e poi lasciata in posa per 20 minuti sotto la maschera LED fotobiostimolazione. Ve la faccio vedere. È questa qui, ovviamente ora è spenta, ha anche la parte del collo e ha diverse luci LED in base all'obiettivo che si vuole raggiungere. È un trattamento fantastico che non vi capirà la vita, ma sicuramente la pelle sì. Se vi è piaciuto questo video mettetemi un like e vi aspetto per il prossimo video. Buona serata!